... Mi scusi se la faccio entrare da quest'ingresso secolo. Secondario, signor Conte, ma lei capirà sua eminenza. È arrivato, eminenza. Entri pure, Conte. Vengala, prego. Sta' attento, cardinale. Non è detto che l'intervento di Cagliostro coincida con l'inizio della tua fortuna. Sono malato, malato. Tieni. Oro anche per te. Non è il tuo oro che mi serve. Non so che farmene. Ho sempre dato oro ai miei malati. Che nome ha la tua malattia? Non lo so, non lo so. Un male senza nome è il peggiore dei mali. Può essere curato solo da un medico senza nome. Allora, sei sicuro che la tua malattia non abbia un nome? Eminenza, eminenza, calmatevi. Su, vi prego. Calma. Non dovete agitarvi. Ma non vede che sta male? Non è il tuo corpo che è malato, ma la tua anima. Vattene, guariscimi. O vattene. Ma chi sei? Come osi? Non posso promettere di guarirti. Ma se vuoi vivere, cardinale, devi lasciare che uccide il male che si annida in questa donna. E cosa vuoi farmi? No, non ti avvicinare. Stai indietro. Vuoi che il tuo uomo guarisca? Stai indietro. Non ti avvicinare. 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 Ah! 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 Apri la bocca. Che questo sia il tuo sollievo.